Ciao ragazzi, qui è stato il 37 e benvenuto in questo video di Dragon Ball XS 2 Allora ragazzi, quest'oggi ci faremo una bella battaglia Bellissima battaglia fighissima Ovvero, useremo Goku contro Machin Buu Quest'oggi faremo una bellissima battaglia fra... Allora, devo funzionare il Goku però Un attimo solo No, no, lo devo ancora sbloccare Quello Neutro 2, onda energetica, teletrasporto, no E allora devo usare per forza questo con l'aureola Fatemi pensare, raga Dai, scusate Dai, dai Quest'oggi voglio un po' di venti Allora, ragazzi, useremo Machin Buu Naturalmente quello piccolo Ovvero, siamo per fare la battaglia Un po' bella Scusate un attimo E Machin Buu Piccolo Allora ragazzi, ho sbloccato quasi tutti i scenari Compreso quello dell'ultimo Del DLC Questo qua, il nome senza di una pianeta Però per rispettare il canone della puntata di Dragon Ball Dovremmo andare nel mondo di Kaioshin Stiamo facendo quella puntata La battaglia fra Goku e Machin Buu Piccolo Dove qua Vegeta Mi ricordo, tanto tempo fa Aveva detto A Go Diceva a se stesso Che lui non combatterebbe Per l'unico motivo Per vendetta Ma anche la fuoriata L'ho fatto stante per essere più forte Devo diventare anche Super Saiyan di terzo livello Comunque Subito disonesto Cioè, lo è sempre detto Machin Buu Piccolo Ragazzi Secondo me Essendo il personaggio Bastardo di Ravel Secondo me Un bastardo Perché il semplice fatto Che usa delle mosse Proprio sleali Secondo me Super Saiyan di secondo livello Dai Dai Almeno il zelva Vai Mamma mia raga Che piccata assurda Vai E te pare Io sono stra-iper E te pare Ma pure la batteria Si sta scaricando Affandulo Dai, dai, dai Dai raga Dobbiamo andare di cacchiverio Dai, che cazzo ho fatto Vabbè raga Voi immaginate Che stiamo facendo Con la battaglia Con la puntata Che a me Ragazzi Lo scoglio tra Machin Buu E se Per me Rimarrà sempre uno Che mi ha sempre incuriosito Questa battaglia Perché Dopodutto Lo sappiamo Che Goku Poi qua Diventa Super Saiyan Di terzo livello Ok Noi abbiamo vinto Perfetto Perché ragazzi Questa riflessione qua Mi piace Un commento Iscrivetevi al canale Qua da solito 97 è tutto E noi ci vediamo Al prossimo video Ciao 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 Grazie a tutti.